Come è stato, per Logan, nel tuo film The Perks of Pina One Flower, come è stato lavorare con un regista che ha anche scritto il libro? Cioè vi ha lasciato spazio magari per interpretare i personaggi o comunque voleva che fossero come quelli del libro? E se vi ha lasciato spazio, che cosa hai messo tu nel Charlie che insomma faceva parte di te e magari hai cercato di farlo tu e non di... E quindi di non dar retta a ciò che diceva il regista o comunque se vi ha lasciato libertà. Grazie, scusate.